perché trm ha scelto revolution marco è arrivato un parco della revolution cosa ci sarà dentro vediamo vediamo un po ci hanno mandato un sacco di cose io leggo maglia tecnica una lanna merinos al cento per cento sempre tecnica bianca montagna dei pantaloni per jogging un'altra maglia molto carina colorata di blu interessante i ballerini prossimi giorni